Musica Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale ancora in corso attraverso i sopralluoghi La verifica dei danni causati in provincia di Catania dalla scossa di terremoto che si è verificata questa notte alle 2.34 Magnitudo di 4.6 secondo la rilevazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia L'epicentro a Biancavilla ma le località in cui la scossa è stata maggiormente avvertita sono anche quelle di Adrano e di Santa Maria di Licodia Di stacchi di cornicioni ma anche di intonaci, danni comunque lievi Alcune strade e alcuni edifici religiosi sono stati chiusi per motivi precauzionali Alcune funzioni religiose sono state sospese Le verifiche continuano ad opera dei vigili del fuoco ma anche degli uomini della protezione civile Ma per fare subito il punto della situazione ci colleghiamo in diretta con Luigi D'Angelo Che si trova a Santa Maria di Licodia A te la linea Buongiorno Salvo, noi ci siamo spostati, siamo stati per l'intera mattinata a Biancavilla Ne parleremo dopo, adesso Santa Maria di Licodia Abbiamo sentito sia il parroco che il sindaco, tra un po' manderemo le interviste Santa Maria di Licodia risulta essere meno colpita Stiamo vedendo le immagini che si riferiscono a Palazzo Ardizzone Quindi una antica casa signorile, intonaci, calcinacci Tu hai detto benissimo, questi sono i danni Poi qualcosa relativa al municipio ma niente di che Molto più colpita invece è Biancavilla Tra l'altro aggiungo che anche Paterno ha sentito particolarmente la scossa di terremoto Che naturalmente sta registrata anche dalle nostre parti proprio a Catania Tanta paura, gli abitanti sia di Santa Maria di Licodia che di Biancavilla Si sono riversati per le strade, c'è chi ha dormito in macchina Non si è più rientrati in casa naturalmente per paura di altre scosse E poi come ci ha detto il parroco c'è stata una veglia Una sorta di preghiera naturalmente comune Si è naturalmente invocato il santo patrono Tra l'altro ci ricordava di Santa Maria di Licodia Questo per trovare conforto Se la Regione è pronta possiamo subito mandare in onda il primo contributo Che si riferisce all'intervista che abbiamo realizzato con il parroco della Chiesa Madre di Santa Maria di Licodia Santo Solomone Ha tanta paura ma alla fine fortunatamente non si segnalano feriti Quindi non ci sono danni alle persone E neanche alla Chiesa Madre di Santa Maria di Licodia Come erroneamente detto da qualcuno parroco Sì, ringraziando il Signore Che ci ha sicuramente protetti Non abbiamo avuto danni Siamo stati svegliati alle 2.35 stanotte E chiaramente tutta la popolazione impaurita Ha cercato di mettersi un po' in salvo E siamo stati tutta la mattinata Fino alle 5.30 del mattino Insieme a parlare, a discutere A confortarci reciprocamente Colgo l'occasione per dire che la nostra Chiesa Grazie a Dio non è stata assolutamente danneggiata Quindi questa sera alle ore 19 Se voi mi date la possibilità di pubblicizzare Faremo una Santa Messa Celebreremo una Santa Messa In onore di San Giuseppe Per ringraziarlo Per la sua intercessione E per ringraziare il Signore Per lo scampato pericolo Grazie veramente di cuore A tutti quelli che anche fino a stamattina Si sono prodigati La protezione civile I vigili del fuoco Alla fine adesso possiamo raccontare Che a Santa Mericordia C'è stato un terremoto del 4,8 Mi pare della scala Richter E questo purtroppo Anche se ha causato lievi danni Rimarrà nella storia Ma sicuramente la racconteremo Ci diceva che è soltanto il brutto ricordo Alla fine fortunatamente Sicuramente rimarrà soltanto il brutto ricordo E speriamo che in futuro Non ci siano più altre scosse Che possano preoccuparci E soprattutto creare danni alle persone E alle cose Continueremo a pregare anche per questo Sì, noi torniamo in linea Luigi sei in collegamento Per lanciare l'intervista successiva Sì, salvo come avete sentito Il parroco ci ha tenuto A sottolineare il fatto Che la Chiesa non ha subito Alcun danno E non state messe in giro Delle voci Ma lui le ha scongiurate Ai nostri microfoni Andiamo adesso al sindaco Totò Mastroianni Il sindaco di Santa Maria Di Licodia Che sottolinea un aspetto Cioè l'apertura di una unità operativa Il centro operativo comunale E questo per le segnalazioni Dei cittadini Ma sentiamo dalle sue parole Vediamo cosa ci ha detto Sindaco, tanta paura Per i cittadini di Santa Maria di Licodia Qualche danno Con cornicioni, calcinacci Ma fortunatamente niente di più Una grande notte di paura Che però si è conclusa Fortunatamente in questo modo Cioè con niente di più Sì, in effetti Una grande paura Alle 2.34 Per l'esattezza Quando c'è stata La scossa più grande Dopodiché Danni materiali Ma grazie a Dio Non alle persone Naturalmente Noi poi abbiamo provveduto A fare una serie di accertamenti Soprattutto sulle scuole Insieme con la protezione civile Quindi abbiamo aperto il COC E praticamente Centro organizzativo comunale Dove tutte le persone Che eventualmente Abbiano subito dei danni E noi non ne siamo a conoscenza Possono venire a fare Una richiesta Per verificare Se i danni Sono stati provocati Da questo tipo di terremoto E abbiamo visionato Dicevo poc'anzi Le scuole Che fortunatamente Dico Sono risultate Tutte agibili Cioè le nostre scuole Hanno resistito Benissimo A questa scossa di terremoto Che non è stata Indifferente Voglio ricordare A me stesso 4.8 Della scada Ritter Quindi Una forte scossa Noi eravamo Preoccupatissimi Perché non sapevamo Il lunedì Bilancio che chiaramente Abbiamo fatto Da questa mattina Sino adesso Sì Ho un bilancio Quasi definitivo Per tutta la nottata Fino ad ora Speriamo che non ci siano Altre notizie Devastanti Sotto questo aspetto Noi ce lo auguriamo E lo auguriamo A tutta la comunità Salvo Sin qui Il primo bilancio Fatto dal sindaco Lo avete sentito Che naturalmente È in corso Di estensione Perché le segnalazioni Dei cittadini Continuano ad arrivare Tra l'altro Proprio dalle prime ore Dell'alba Tutti i vertici Dell'amministrazione Insieme ai responsabili Della protezione civile Nelle diverse comunità Si sono messi in moto Adesso andiamo A Biancavilla Che risulta essere Invece il centro Più colpito Sono lì in realtà I danni Parliamo ad esempio Della chiesa dell'idria Così come della basilica In questo caso All'interno La chiesa dell'idria Lo avete visto Nel corso Dei nostri collegamenti Lo abbiamo appurato Attraverso poi Le testimonianze Anche del capo squadra Del distaccamento Dei vigili del fuoco Francesco Pappalardo Ha riportato I danni più rilevanti Cominciamo proprio Con questi contributi Uno è quello Del capo squadra Dei vigili del fuoco L'altro invece Quello di uno Uno dei responsabili Della protezione civile Di Biancavilla Cioè Francesco Greco Possono partire le immagini Questa mattina Noi abbiamo iniziato Con un primo intervento Al comune di Santa Maria Ricordia Abbiamo tolto Un po' di cornicioni Che risultavano pericolanti Abbiamo messo in sicurezza Parte della struttura Poi ci hanno spostato Qui a Biancavilla In questa chiesa dell'idria Dove causa il pennacolo La fiamma La fiamma che c'era Che c'era le sopra È caduta Parte della chiesa dell'idria Poi abbiamo avuto anche Dei crolli per le strade Che vanno nella zona delle vigne Dove siamo in questo momento noi Invece da anni Abbiamo dovuto chiudere La chiesa madre Perché ci sono pericoli di corli Il sindaco Ha interrotto le festività Perché c'era San Plagido In corso E questa sera Doveva uscire San Plagido E quindi ha interrotto Tutte le festività Voi avete sentito Con particolare rilievo Il terremoto Perché la scossa È l'epicentro E tra qui Santa Maria di Licodia Lei mi diceva Questa notte Circa 30 secondi di panico All'incirca 30 secondi di panico Con una scossa di magnituto 4,8,5 Ed è durata abbondantemente Abbiamo avuto una grande paura Perché tutto si muoveva Infatti le case Sono la maggior parte Tutte scostate nelle pareti Sentito queste testimonianze Sì Luigi Torneremo con te Subito dopo Perché appena giunta In redazione La dichiarazione Rilasciata al microfono Di Rosa Maria di Natale Da Eugenio Privitera Il direttore Dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia Il quale ha detto Che chiaramente L'evoluzione Non è possibile Prevedere l'evoluzione Di questo sciame sismico Ma la situazione Viene continuamente monitorata E poi Sempre al microfono Di Ultima News Privitera Anche è chiarito Come mai Il valore Della magnitudo È passato Da 4,8 A 4,6 Quindi con una revisione Al ribasso Sentiamo Direttore La scossa di stanotte Può essere collegata All'attività vulcanica Ma ancora è presto Per poterlo dire Perché abbiamo bisogno Di approfondire delle analisi Quindi non abbiamo ancora I risultati di queste analisi Però non si può escludere Che sia legata All'attività Alla ricarica Del vulcano Che noi stiamo osservando Già da diversi mesi E che viene ben evidenziata Dalle deformazioni del suolo Che vengono misurate Sia con tecniche GPS Che con tecniche satellitari Avete avuto qualche piccolo segnale? No Di questa scossa Assolutamente no Purtroppo Non esistono Attualmente Precursori affidabili Dei terremoti Né tantomeno È possibile fare Delle previsioni Di tipo deterministico 4,6 O 4,8 Sono due stime Che vengono fatte In maniera diversa Una è la magnitudo locale Che viene fatta Sull'ampiezza massima Dei sismogrammi E viene 4,8 Con un errore associato Di 0,2 E l'altra invece Si chiama magnitudo momento Che viene fatto invece Calcolando Il meccanismo Di funzionamento Del terremoto E anche questa C'è una indeterminazione Quindi se andiamo a vedere Le indeterminazioni Associate a questi due valori In realtà Stiamo parlando Della stessa cosa Se volessimo fare Una descrizione Di questo terremoto Fuori dagli elementi Da addetti ai lavori Che tipo di terremoto è stato? Ma è un terremoto Da fratturazione Che è avvenuto A una profondità Abbastanza superficiale Quindi questo è il motivo Per cui ha fatto Anche questi danni È una magnitudo Non particolarmente elevata In assoluto Quindi non confrontabile Con quelle dell'Italia centrale Per esempio O con il terremoto Di Santa Lucia Tanto per fare Dei paragoni Però per quello Che riguarda L'area del etneo 4,8 È una magnitudo Abbastanza consistente Che consigli diamo Ai catanesi E a chi abita In quelle aree Già colpite? Ma i consigli Che diamo Sempre a tutti È di seguire Scrupolosamente Le ordinanze sindacali E gli avvisi Della protezione civile E quindi Di adeguarsi A un po' Alla situazione Perché sono loro Che mettono in campo Le misure di protezione Per la popolazione Per la popolazione Così Eugenio Primitere Il direttore Di linee GV Di Catania Torniamo a collegarci In diretta Con Luigi D'Angelo Da Santa Maria Di Licodia Te la linea Sì salvo Quindi tanta paura Naturalmente C'è questa differenza 4,6 4,8 Però in realtà Come hanno Sottolineato I nostri intervistati La paura È stata tantissima Loro chiaramente Hanno avvertito Addirittura Responsabile della protezione civile Si proiettava In un ordine Cronologico Di tempo Di 30 secondi Sono oggettivamente Tanti Forse troppi Però a volte La percezione È talmente Difficile Nel momento in cui Si ha tanta paura Per cui i 30 secondi Sono veramente tanti Ovvio che Le zone particolarmente Colpite Lo ripetiamo Sono Santa Maria Di Licodia Biancavilla Poi Adrano E in parte Anche Paternone Ha risentito moltissimo Anche se Ovviamente La scossa È stata registrata In maniera netta Anche dalle nostre parti Cominciare Da Catania Se tu non hai Altre curiosità O istanze Da Santa Maria Di Licodia È tutto Per Ultima News Luigi D'Angelo Grazie Luigi Per questo collegamento Noi per il momento Chiudiamo la pagina Dedicata al sisma Di questa notte Delle 2 e 34 Ci occupiamo Dell'altra notizia Del giorno Il commosso Omaggio a Gilberto Idonea L'attore siciliano Scomparso ieri All'età di 72 anni La Camera Ardente È stata allestita All'interno del Teatro Metropolitan Di Catania È stato un Susseguirsi Di interventi Noi attraverso Rosa Maria Di Natale Abbiamo raccolto La testimonianza Dell'attore Bruno Torrisi E ancora Della giornalista Salvo La Rosa Una grande foto In bianco e nero Sorridente E sorgnona Di Gilberto Idonea Accolto i visitatori Della Camera Ardente Allestita al Teatro Metropolitan Di Catania Amici Attori Gente comune Tutti commossi Hanno scelto di dare così Un ultimo saluto All'attore catanese Scomparso venerdì Per arresto cardiaco Poco prima del funerale Nella chiesa di Santa Maria Della Guardia A Catania Era gravemente malato Idonea Eppure la sua scomparsa È stata come un pugno In faccia alla città Che ha perso la sua maschera La sua prosa Di siciliano di talento Nel mondo La sua cultura Di uomo di teatro Fiori e lacrime E abbracci Per la moglie Raffaella Oliveri Ma anche molti ricordi Sussurrati tra compagni di vita Era forte Un leone Un burbero Ma buono Un sognatore Un uomo di una Sicilia Che non ha mai smesso Il suo spirito libero E dissacrante L'attore Bruno Torrisi Noto al grande pubblico Anche per il suo ruolo televisivo Di questore Licata In squadra antimafia Lo ricorda così Quello che più Mi ha avvicinato a lui È quando Nel primo spettacolo Io in quella breve scena Che avevo Uccivo di scena La prima Non ci fu l'applauso Lui venne dietro le quinte E mi disse Sì vabbè Dici due battute Però l'applauso Dico Gimberto con due battute No dobbiamo trovare la soluzione Che tutti devono avere l'applauso Inventati qualcosa Io mi sono inventato una battutina Che portò all'applauso Alla replica dopo Lui era contentissimo E mi diceva Io voglio questo per tutti Questo mi colpì Questo Voler premiare tutti Anche il ruolo più piccolo No viveva come un leone Quale lui era La competizione che c'è fra le varie produzioni Ma questo esiste in tutte le città E lui la sentiva molto Ma invece di reagire negativamente Anzi con più grinta Era veramente un leone Un leone affrontava il lavoro In tutte le condizioni Anche con i guai della sua salute La chemio La febbre Era sempre sul palco Era sempre pronto Per il giornalista televisivo Salvo La Rosa Suo grande amico personale È inevitabile sottolineare La personalità di Donia Prima ancora Della sua identità artistica Diciamo che È stato veramente Un fratello maggiore Gilberto per me Non solo dal punto di vista artistico Ma anche dal punto di vista umano Perché Era sempre pronto A darti un consiglio giusto Era sempre pronto A starti vicino Anche nei momenti difficili Che purtroppo Nella vita Ci sono Devo dire che è stata Un'amicizia Ed è stato un affetto Assolutamente ricambiato Siamo stati più volte Anche all'estero A fare delle tournée Ne ricordavo una In modo particolare Negli Stati Uniti Quando a Filadelfia Siamo andati a fare Uno spettacolo Sui proverbi E sulle miniminaggie siciliane E lui ha voluto Che mia sorella Che è insegnante di inglese Traducesse In maniera anche Un po' approssimativa Perché non è possibile Farlo correttamente Queste miniminaggie In dialetto stretto siciliano In lingua inglese Perché lui voleva Che si trasmettessero Anche ai figli Degli emigranti Cambiamo adesso Decisamente argomento Guardate queste immagini Così passiamo Alla cronaca Un arsenale È stato Scoperto È sequestrato Dalla polizia Di Catania In due diverse Operazioni Parte delle armi Sono state sequestrate Alla squadra mobile La questura Nel cimitero Del capoluogo Etneo Erano in un sacco Nascosto In un incavo Posto Lateralmente Ad una tomba Assicurato da un lucchetto Conteneva una mitraglietta Klasnikov Con due caricatori vuoti Due pistole Centinaia di cartucce In un'area di vita A parcheggio Nel rione Nessima Invece Il personale Della squadra mobile Ha trovato Sotto una moto Coperta da un telo Una busta di plastica Con all'interno Un giubbotto antiproiettile Un centinaio di cartucce Di vario calibro E una rivoltella Con tamburo Rifornito Di sei cartucce E ancora Una pistola Semi-automatica Completa di caricatore Con sei cartucce Il sequestro È stato eseguito Il 2 ottobre Ma la notizia È stata resa soltanto oggi E si sospetta Che l'arsenale Sia in uso Ad uno stesso Gruppo criminale Adesso c'è la pagina politica Ci spostiamo dunque A Palermo Si svolge La ricerca Di una nuova Auspicata Compattezza All'interno Del Partito Democratico Siciliano La Leopolda Che si sta svolgendo In questo momento Nel capoluogo Dell'isola Sentiamo tutti i dettagli Nel servizio Di Simona Zappalà Seconda giornata Dei lavori Della Leopolda Del Sud Organizzata dal parlamentare Dem Davide Faraone Un'occasione di rinnovamento Del partito Che secondo Roberto Giacchetti Deve ritrovare Una cultura democratica Dello stare insieme Andrebbero cambiate tante cose Soprattutto andrebbe Rinnovato il partito Democratico Per fare una proposta Politica per l'Italia E noi sappiamo Perfettamente Che in Italia Uno dei problemi Grandi che abbiamo E' quello del mezzogiorno Però bisogna fare Iniziativa politica Bisogna rinnovare il partito Bisogna fare un congresso E bisogna mettere in campo Una proposta politica Convincente Che non si farà In cinque minuti Perché purtroppo In politica A distruggere ci vogliono Cinque minuti A costruire ci vuole Molto più tempo Il PD deve ritrovare Innanzitutto Una cultura democratica Dello stare insieme Dove le diversità Sono una ricchezza E poi si deve trovare Un punto di sintesi Io non credo Che sia conveniente Per il PD Avere un pensiero unico Io penso Che sia molto importante Avere un confronto Tra proposte Anche diverse Con una regola semplice Che vale in tutte Le comunità democratiche Una volta che Una di queste idee Ha avuto la maggioranza Quella deve diventare La linea di tutti quanti Dalla lotta Alla povertà Al taglio dei fondi Per sanità e scuola Questi i temi Al centro della giornata Dobbiamo dire agli italiani Che nel 2020 e 2021 È previsto l'aumento dell'IVA C'è scritto nero su bianco Che aumenteranno le tasse Già dal prossimo anno E ci sono soldi Che non ci convincono In quanto alla lotta Alla povertà I poveri sono circa 6 milioni e mezzo In questo paese Se vengono allocati Sul reddito di cittadinanza Come pare ci sia scritto 10 miliardi di euro Vuol dire che stiamo parlando Di 128 euro al mese A persona Il che non credo Si possa dire Per quanto la somma sia importante Che si sta abolendo La povertà Come qualcuno ha detto Altre cose importanti Sono il taglio I tagli alla sanità I tagli alla scuola Notizia di ora Che nel DEF C'è anche scritto Che verranno dimezzate Le ore di alternanza lavoro Si fanno dei pericolosi Passi indietro E adesso cambiamo argomento Ci spostiamo invece a Catania Dove oggi a Montepo Si è svolto Un bel progetto Di rigenerazione urbana Che ha fatto sì Che si portasse a compimento Iniziativa voluta Dall'amministrazione comunale Ma anche dalla Dasti Nell'ambito della campagna La chiave della bellezza E così Grazie all'impegno della Dasti I quartieri catanesi Cambiano volto All'inaugurazione Erano presenti Tra gli altri Il sindaco Salvo Pogliese E l'assessore all'ambiente Fabio Cantarella Sentiamo le loro dichiarazioni Seminiamo la bellezza Attraverso questa chiave simbolica Che sto per consegnare Abbiamo messo a ferro e fuoco Ma positivamente il quartiere Abbiamo iniziato proprio da Montepo Perché è il quartiere Più vicino agli altri paesi Non so come spiegare È il front door Cioè è l'inizio della città di Catania Per cui è dall'inizio Che bisogna promuovere Questa sorta di rivoluzione culturale Penso che se noi piano piano Quartiere per quartiere Come noi abbiamo pensato di fare Piano piano possiamo riuscire A trasformare l'occhio delle persone Voglio che le persone si riabituino Progressivamente al bello Ecco questo è il senso Della chiave della bellezza Ma è anche il senso Che la gente deve capire Che si deve riappropriare Del proprio territorio Curarlo Diventarne custode Partire dalla situazione In cui abbiamo ereditato il territorio Non era facile Lo sapevamo Però c'è tanto entusiasmo E stiamo puntando anche e soprattutto A un'operazione culturale Che è una cosa che in passato Non si è mai fatta Se noi riusciamo a mantenere pulito È molto più semplice che pulire E tutti possono godere Di questi spazi bellissimi Come questo In piena pulizia Armonia con l'ambiente Quindi questo è fondamentale Questo processo di cambiamento culturale Si è innescato Perché tanti me lo dicono E tanti percepiscono Questo voglio di avere uno scatto Anche d'orgoglio Non si può pensare Che mettiamo una telecamera In ogni traversa Torniamo in studio Per cambiare argomento Torniamo nuovamente a Palermo Dove cresce il malcontento Dei residenti di Partanna Mondello Alle prese con i continui allagamenti Ma anche con una rete elettrica Che non è stata del tutto ripristinata Dopo le violenti piogge Degli ultimi giorni Sentiamo Possiamo ancora vivere Ogni volta che piove nell'emergenza Questo è il problema Così i residenti di Partanna Mondello Comune del Palermitano Che si sono riuniti In un corteo di protesta Per l'emergenza allagamenti La storia si ripete ogni volta Ad ogni pioggia E l'emergenza diventa più di prima La pioggia ha messo in ginocchio L'intera borgata Che ormai vive nella paura Nell'ultimo allagamento Le persone si sono ritrovate L'acqua con la rete elettrica Ancora in funzione Noi ogni volta che piove Viviamo nell'emergenza L'acqua è dentro casa Molte persone devono uscire di casa Non possono andare a prendere i bambini La viabilità La scarsa illuminazione E lì è tutto un insuccesso qua Bisogna trovare dei rimedi Efficaci Che risolvono il problema Oltre per tutte Da mondelle E partane Già da 30 anni Che si sente sempre parere Gli allagamenti Non si è mai risulti il problema Questa volta a smuovere le acque Siamo noi Questo lo slogan Della manifestazione Organizzata dal comitato Allagamenti Della settima circoscrizione Dall'associazione Aiace Dai comitati civici Di Palermo Quattro settimane fa Abbiamo fatto un esposto In procura Attraverso il quale Stiamo cercando Di trovare I responsabili Di ciò che accade E l'intento È quello di portare Anche su un tavolo Tutte le amministrazioni E tutti gli enti preposti Affinché si possa discutere Di quelle che sono Le reali Soluzioni Per risolvere il problema Durante le piogge Soffre gli allagamenti Soffre naturalmente Di disagi E chiediamo alla politica Chiediamo Alla politica regionale Alla politica comunale Di dare risposte concrete A questo territorio Anche perché Non possiamo più Continuare a vivere Negli allagamenti Ed essere ostaggio Delle nostre case Del nostro quartiere Perché non abbiamo La possibilità di uscire Per mettere fine Agli allagamenti L'amministrazione comunale Ha realizzato Tre vasche di drenaggio E laminazione Delle acque Questi lavori però Secondo i residenti Sono stati inutili In programma C'è la bonifica Del ferro di cavallo Chiuso dal 2009 Il secondo canalone Mai realizzato E l'adeguimento Dell'impianto Di depurazione Di Viale dell'Olimpo Tutti i progetti Inseriti nel patto Per il sud E nel patto Per Palermo Ad oggi però Nessun avvio Dei lavori Parliamo adesso Di ricerca scientifica Grazie alla solidarietà Perché torna Anche nelle piazze Siciliane La mela Dell'Aism Vedete il cartello Elettronico Del manifesto Iniziativa Per la lotta Alla sclerosi multipla Fondamentalmente Fino a domani I volontari Saranno Nelle piazze Siciliane Comprese anche Quelle catanesi La cura definitiva Per la sclerosi multipla Quella che farà Scomparire Completamente La malattia Arriverà Solo quando Si saranno Compresi Tutti i fattori Che la scatenano Affermano i ricercatori Per questo È importante Sostenere Appunto La ricerca scientifica Con quanto avverrà Nelle prossime ore Attraverso la mela Dell'Aism In tutto ci saranno 13 mila volontari Che distribuiranno Oltre 4 milioni Di mele A fronte di una donazione Minima di 9 euro Con cui si potrà Portare a casa Un sacchetto Da quasi Due chili Si legge ancora Nel comunicato Di gustose Mele rosse Verdi E gialle Dunque Appuntamento Con la mela Dell'Aism Anche nelle piazze Siciliane Fino a domani Adesso ci fermiamo Per qualche istante Poi lo sport GTA Informatica Un mondo di innovazione A portata di mano GTA Informatica Vendita a computer Se accessori Assistenza tecnica Connettività a DSL Registrazione Donili Siti web Networking E-business services GTA Informatica Via Kennedy 56 Di fronte parcheggio Livatino Acireale Collegati su www.gte.it Ci sono cose Che sappiamo di sapere Ci sono cose Che sappiamo Di non sapere Ma soprattutto Ci sono cose Che non sappiamo Di non sapere L'università L'università è curiosità e scoperta E sfida con se stessi E confronto con gli altri L'università che sceglierai Sarà la tua università L'agenzia MG Pratiche Auto Di via Alberto Mario 11 a Catania È la risposta Che ha poco tempo E problemi da risolvere Specialisti in tutte le pratiche Automobilistiche L'agenzia Messina Si occupa Dal rinnovo patenti Ai passaggi di proprietà Ai consigli Sulla giusta assicurazione Da scegliere E tanto altro ancora Vi aspettiamo Nella nostra sede In via Alberto Mario 11 a Catania Per risolvere i vostri problemi Senza stress Allora Domenico Vatti a sistemare Che oggi ti sfido No, a livello difficilissimo Tranquillo papà Non fai le danni Mi sta chiedendo Sì o no Ma tu Non conosci la Margan School? Margan School Ah Conosci Sport calcio Il Catania affronta La Vibonese Alle 18.30 Entro le mura amiche Dello stadio Massimino Del capoluogo Etneo Benvenuto Daniele di Frangia Una partita Che seguirà La scorta Del successo positivo Di Rende Ma le insidie Non mancano Grazie Salvo Buon pomeriggio Sì Le insidie Non mancheranno Sarà una partita Non semplice Per il Catania Che dopo Rende È costretto A trovare La seconda vittoria consecutiva Per dare Ovviamente Seguito Al successo Di Rende È un Catania Che ritrova Finalmente Anche il Massimino Con l'esordio stagionale In campionato Davanti A un pubblico Che si prospetta numeroso Salvo Perché sono Circa 6.600 Già gli abbonati Che hanno sottoscritto Appunto La tessera Per quest'anno In più ci saranno Anche altri Almeno 4.000 Più o meno paganti Quindi intorno Ai 10.000 Circa Dovrebbe essere Stimato Il pubblico Di quest'oggi Al Massimino Ovviamente Tanta attesa Finalmente Dopo le tante settimane La querelle Ripescaggi Che c'è stata In questa lunga estate Finalmente Arrivati al 6 di ottobre I tifosi rossazzurri Potranno vedere La propria squadra Da vicino E lo faranno Alle 18.30 Quest'oggi Allo stadio Massimino Qualche anticipazione Su quella che sarà Appunto La formazione La tattica Guarda Ieri Ha parlato Sottile Magari Dopo lo ascoltiamo Non ha fatto Trapelare Moltissimo Per quanto riguarda La formazione Dovrebbe confermare Gran parte Della squadra Che ha vinto Contro il Rende Probabili due novità La prima Con Marotta Che davanti Potrebbe Ottenere il posto Titolare In luogo di Curiale E a sinistra Terzino Baraglie E favorito Su Scaglia Questi sono i due Diciamo Ballottaggi Fino all'ultimo minuto A poche ore Dalla partita Però insomma Le ultime indicazioni Appunto Sembrano dare Marotta E Baraglie Titolari Dall'inizio Sì Ed è proprio In quella Intervista Di cui parlavi Che Sottile Fa due riferimenti Specifici Ovviamente Si prosegue Sulla scorta Del successo Di Rende E poi chiaramente Sull'appoggio Notevole Dei tifosi Così come Lo ha appena Ricordato Daniele Di Frangia Sentiamo Salve mister Tutto pronto Per l'esordio Al Massimino Domani arriva La Vibonese Dopo una bella vittoria Come quella di Rende Cosa si aspetta Dalla sua squadra Domani Migliorare La prestazione di Rende Abbiamo visto E valutato La prestazione Insieme Con i ragazzi Cose fatte bene Cose da migliorare Siamo fatte Una buona settimana Di lavoro Consapevoli Che è una gara Da vincere Una gara Da prendere Non sarà facile Come sempre Questo lo sappiamo Rispettiamo Assolutamente La Vibonese Ma Dobbiamo Aumentare Tutte le velocità A cominciare Da quella mentale Avere più Personalità Più serenità Nell'espressione di gioco Essere più continui Nell'espressione di gioco Ma io sono convinto Che domani I ragazzi Faranno Un'ottima partita Domani Grande pubblico Già atteso Al Massimino Tanti abbonati Tanto pubblico Sarà presente Lei ha detto Voglio una squadra Subito agguerrita Dal primo minuto Ma sì Giocare al Massimino Per me È sempre stato Anche da calciatore Un vantaggio Un vantaggio Da sfruttare Questi meravigliosi tifosi Questa spinta Che dà al Massimino Questi numeri incredibili Che nessuno Fa nella nostra categoria Ma neanche Nelle categorie superiori E quindi Domani Come fischiare arbitro Noi ci dobbiamo mettere Del metto A testa bassa E spingere Dal primo All'ultimo All'ultimo minuto Torna Marotta Dopo la squalifica Un rientro importantissimo Sicuramente Per la squadra Ed è un Marotta Che potrebbe anche Candidarsi a giocare Dal primo minuto Marotta è un giocatore Importante E come lo sono Tanti Nella nostra Nella nostra Nella nostra rosa Rientra E scalpita Perché Tra il posticcio Del campionato Tra la sua Squalifica Scalpita Per giocare Se l'è nato bene Pronto È un leader È un giocatore Molto carismatico Quindi Sono un buon contento Che sia a disposizione La preoccupa un po' La Vibonese È una squadra Che potrebbe anche Chiudersi E cercare Insomma Di portare a casa Qualcosa Però il Catena Deve pensare Solo a se stesso Ogni squadra Che incontriamo È un anniversario Ha i propri Latti positivi E negativi Noi dobbiamo essere Bravi a colmare Le loro Forze E andare invece A colpire Dove secondo noi Secondo me Ci sono Dei lati deboli Analizzato anche Il calendario Tantissime partite Nei prossimi giorni Nelle prossime settimane È un tour de force Vero quello che vi attendo Eh sì Tour de force Sapevamo Tanto prima o poi Sarebbe arrivato Perché dobbiamo Recuperare partite Oltre i turni In fase di millennia Da calendario Giastilati E quindi ci sarà Come non mai Bisogno di tutta La forza della Rosa Tutti i giocatori Saranno coinvolti Così Andrea Sottilma Voi di Ultima Sport Avete realizzato Un altro importante Contributo ieri Con un'intervista In esclusiva A Marotta Sì è vero Salvo è la grande novità Anche di questa stagione Face to face La vigilia delle sfide Di campionato del Catani Intervistiamo uno Dei protagonisti Siamo partiti Con capitano Marco Biagianti La settimana scorsa Ieri invece Abbiamo voluto sentire Un nuovo acquisto Come Alessandro Marotta Che si è subito legato Devo dire Ai colori rossazzurri Al gruppo Alla città All'ambiente Quindi sta già scalpitando Vuole partire titolare Vuole dimostrare Già il suo valore Poi ci ha raccontato anche Qualche aneddoto Qualche curiosità Molto interessante Lo andiamo ad ascoltare Diciamo che Il mio arrivo è stato Molto positivo per me Perché ho trovato Comunque la gente Che ha apprezzato molto Il mio modo di giocare Senza aver mai gioco Da Catania Soltanto da avversario E quindi niente Sono molto Sono molto contento Di essere qui E non vedo l'ora Di poter giocare A Massimino Anche perché Sono tre mesi Che mi alleno Vorrei cominciare a giocare Davis mi piace Mi piace perché Non è uno che parla tanto È un ragazzo molto riservato E quelle sono le persone migliori Perché Conoscendoli meglio Scopri Delle qualità Che magari non riescono a mostrare Però quando Acquisiscono la fiducia Del compagno Si aprono E diventano Molto piacevoli Da frequentare Io e Davis Abbiamo un buon rapporto Ogni volta Quando possiamo Usciamo insieme Con la famiglia Con i bambini E averlo come Compagno di squadra Mi fa molto piacere Ragazzi Io Io proverò sicuramente A fare più gol possibili Anche perché Più ne riuscirò a fare Insieme sicuramente A mio amico Davis E più daremo una mano Darò E daremo una mano Al Catania Per centrare l'obiettivo Che è sopra ogni cosa È sopra i gol di Marotta È sopra i gol di Curiale Il nostro obiettivo Sta al primo posto E noi tutti insieme Lavoriamo per raggiungerlo Uno di questi Te lo offre Gianluca Brigante Se fai 20 gol quest'anno Ti porta a mangiare La carne di cavallo Quindi con 20 gol Una fetta di carne di cavallo Non te la leva nessuno Se mi indico La porto io a lui A mangiare Non manca l'ironia Comunque No Assolutamente Alessandro Marotta Non manca l'ironia È una sua prerogativa Un calciatore molto simpatico Ha fatto Ha fatto gruppo Si è già inserito Come dicevamo prima Insomma Siamo convinti che sarà Un po' Il trascinatore O uno dei trascinatori Della squadra Di quest'anno Diamo l'appuntamento Alle 18 Ultima TV Canale 87 877 Ma anche sui nostri social Con l'evento che anticipa La partita di oggi Delle 18 A collegamenti con lo stadio Angelo Massimino Dove ci sarò io Ma ci sarà anche Federico Lo Giudice Interviste post-gara Subito dopo Ai protagonisti Della partita di Catania Ribonese Insomma Un pomeriggio ricchissimo Con Ultima Sport Con il match day Del pomeriggio Insomma Seguiteci più tardi Con Ultima Sport Bene Poi per le soggettive L'appuntamento è anche Sulla pagina Facebook Di Ultima Sport Grazie a Daniele Di Frangi A tutto il team Della vostra redazione Non lasciamo lo sport Ci occupiamo del Palermo Calcio Vicende giudiziarie Per Zamparini Ma anche L'esordio Domani Della panchina Di Stellone Sentiamo Altri guai Per Zamparini In attesa Della decisione Sul sequestro Della procura Il tribunale Del riesame Di Palermo Accogliendo Il ricorso Della procura Ha disposto Gli arresti domiciliari Negati in prima istanza Dal GIP Per il patron Del Palermo Maurizio Zamparini Accusato Tra l'altro Di riciclaggio E autoriciclaggio L'inchiesta È coordinata Dai PM Dario Scalette Francesca Dessi Dall'aggiunto Salvo De Luca E dal procuratore Francesco Lovoi Il provvedimento Non è esecutivo Fino alla pronuncia Della Cassazione Ed è proprio La Cassazione E il tribunale Dei diritti Dell'uomo L'ultimo grado A cui si vuole Rivolgere Il patron Zamparini Che ha detto Di non voler più Mettere piede A Palermo E che da gennaio Si dedicherà Solo ed esclusivamente Ai propri interessi Commerciali Insomma Il 26 ottobre È la data ufficiale In cui Antonio Ponte Diventerà Il nuovo presidente Del Palermo Toccherà a lui Concludere quelle trattative Aperte per la cessione Del club E poi c'è il campo Con la prima Domani sera Di Stellone Esordio al Barbera Contro il Crotore Ma tutta la curiosità È per sapere Con quale formazione Giocherà il tecnico romano Il Palermo Dovrebbe giocare Con il 4-3-2-1 Brignoli in porta Salvi Bellucci E Raijkovic All'esame in difesa Muraschi Iaiello E Assa Centrocampo Contra Icoschi E Falletti A supporto Di Nestoroschi Unica punta Ma non è completamente Da escludere La difesa a tre Con Pirrello Inserito Al fianco di Raijkovic E Bellucci Per dare più consistenza In attacco A Puskas E Nestoroschi Se ne sapratti più Domani Fischio d'inizio Alle ore 21 Allo Stadio Barbera Ed è tutto Per questo telegiornale Che potrete rivedere Anche sulla nostra pagina Facebook Grazie per l'attenzione A presto Grazie per l'attenzione